Sentenza storica dal Tribunale Penale di Brescia, condannati per maltrattamenti responsabili di un allevamento di cani Beagle destinati alla sperimentazione scientifica e chiuso nell'estate del 2012. Sono stati infatti condannati a un anno e sei mesi il cogestore di quell'allevamento ed anche un veterinario. La vicenda cominciò nel 2012 con un esposto per maltrattamento ai cani presentato da Legambiente alla Procura di Brescia. I Beagle di Green Hill all'epoca erano destinati alla sperimentazione, cv un sequestro della struttura e tutti gli animali vennero liberati.